Lo studio è un diritto, a Tortorici no? La nostra scuola non si tocca, la difenderemo con la lotta. L'istruzione è la chiave per la libertà. Queste ed altri messaggi spiccano sui muri della sezione staccata di Tortorici dell'Itet Tomasi di Lampedusa, con sede centrale a Santa Gata Militello. Studenti e genitori sono pronti a difendere con i denti la loro istituzione, non dimenticando che le soluzioni sono molteplici per evitare la cancellazione del plesso. E visto che è così, perché questa scuola deve chiudere? Mancano 3-4 giorni per annullare questo decreto e a tutt'oggi non abbiamo nessuna risposta per la scuola e per i nostri figli. Questo locale addirittura ora gli stanno mandando la richiesta che è disponibile per due anni, non per uno o più. Gli stanno mandando la richiesta all'assessore, basta che annulla questo decreto, che gli hanno mandato la disposizione per due anni. E in più c'è un altro locale che gli avevano mandato un altro progetto per mandare quelli della provincia a venire a visionare per la scuola. Quindi a questo punto è arrivato, non so cosa aspettano per annullare questo decreto, se vogliono portare alla scuola. Io non capisco come la regione possa affrontare l'anno prossimo per 70 alunni la disponibilità ad affrontare le spese per il rimborso a biglietti per l'autobus, che se si fanno il conto sono 70.000 euro, con due strutture che ci sono qua e non escono neanche un euro, perché sono gratuite, sia questa che quell'altro edificio. Da quanto tempo c'è questa scuola qui a Tortorice? Io ero 40 anni, ero piccolino e questa scuola c'era, perciò è da 40 anni che c'è questa scuola. È anche comune, gli ha fatto la proposta che gli dà un locale, ma aspettiamo sempre la risposta che vengono a visionare questi locali. Ma da solo ci prendono in giro, che fanno oggi e domani e nessuno si vede.